buonasera bentornati a talk sicilia mi vedete sorridere oggi perché qui con noi oggi c'è un grande amico il personaggio di punta di video regione il mio amico massimo minutella massimo ciao ben trovati ma che bello chiacchierare 24 minuti 24 minuti spero di vero no però non è vero non mi permetterei mai di correggerti lungi nell'idea ma siamo tutti lì di punta mi piace pensare a questa ma io faccio come dire io sono politicamente scorretto quello che penso e per me il personaggio di punta con tutto rispetto per gli altri grandi artisti a sesso salvaggio c'è carlo caneba cristiano di stefano carmelo quella grandissima famiglia che sta facendo grandi numeri in sicilia in televisione grazie oggi parliamo di casa minutella eccoci quest'anno il diciottesimo compleanno di casa minutella è il momento di fare un piccolo bilancio su questa prima sessione autunnale invernale no com'è andata questa io faccio invece il mio bilancio non è figlio di quello che abbiamo fatto partendo dal 24 di ottobre ma è quello che chiaramente attiene a tutto il 2022 e nella prima nella prima parte del 2022 andavamo in onda due volte a settimana il martedì e il giovedì per 90 minuti un'ora e mezza di diretta in cui avevamo tanti approfondimenti di politica e tanti anche legati al mondo dello spettacolo e tanti personaggi che abbiamo intervistato e poi dal 24 di ottobre è partita la nuova era il nuovo corso sia di casa minutella che di tutto il gruppo minardo e quindi di video regione però diciamo tu ti picchi sempre lo specifichi sempre io non sono un giornalista sono il manovratore del traffico però diciamo c'è la verità nel 2022 sia nella stagione precedente che quella che è iniziata il 24 ottobre cioè tu hai dato anche degli schiaffoni forti alla politica alla società hai raccontato il trentennale delle stragi come forse nessun altro ha fatto almeno a livello regionale nessuno ha raccontato in maniera approfondita come hai fatto tu e poi ha avuto ospiti prestigiosi ha avuto Ficarra e Picone ultimamente Piff Walter Veltroni cioè casa minutella non è più soltanto la casa dei siciliani ma è un punto di riferimento di discussione di analisi e anche di critica politica questo è il frutto di quello che è stato seminato in questi 20 anni di attività divisa tra radio e televisione anche se a settembre prossimo sottoscritto festeggia 50 anni ho iniziato che ero ragazzino e figlio ha delle relazioni che crei dei rapporti che fai nascere durante il tempo c'è un dato che mi che mi conforta che mi fa piacere tutte le volte che ho ospite un artista che lo invito lui non lui o chi per lui non mi hanno mai chiesto ma dove si va in onda quello è il loro vengono a casa minutella e questa è la cosa che più mi ha come dire ha dato forza in questi anni e sono molto contento perché ho creato nel mio piccolo infinitesimalmente piccolo un brand che mi dà la possibilità di poter aver incontrato in questi anni personaggi che guardavo alla tv quando ero ragazzino io ricordo ancora una mia intervista fatta tantissimi anni fa a cochi e renato piuttosto che a giuseppe tornatore o qualche giorno fa ricordavo l'ando buzzanca il maestro roberto andò personaggi che ecco o avevo letto nei libri o avevo visto la tv al cinema e voglio anche ricordare nel 2022 due edizioni di festival una fatta in piena pandemia quando nessuno aveva mai pensato di fare uno spettacolo io ero al teatro golden con le mascherine con i tanti purtroppo artisti positivi che risultavano aiutare i giorni me lo ricordo ogni tanto la classifica variava anche in funzione al contagio cambiavamo praticamente la scaletta però ci siamo passati alle spalle ormai infatti volevo dire per me è un bilancio in tutto questo tu sei stato anche il primo non giornalista ma in realtà colpiva il giornalista entrava sul reparto covid sì io me lo ricordo ancora era una puntata di casa minutella dove c'era un direttore generale il quale diceva voi dovreste vedere voi dovreste vedere voi dovreste vedere io dicevo ma scusa perché non ce lo fai vedere siccome chi mi conosce sa che io dico sempre quello che penso nel bene e nel male e lui mi disse beh allora fallo ma io sono lo dico con tutta l'umiltà di questo mondo il più grande ipocondriaco che esiste al mondo e loro mi dissero ci vuoi venire io dissi subito di sì io mi ricordo del ribardato con tre tute una roba veramente quasi sembrava un film di fantascienza dell'orro sì mi ricordo questo questo speciale il caso minutella dentro il reparto covid pronto soccorso del civico di palermo che fece solo sui social più di mezzo milione di contatti nella struttura del tuo modo di raccontare perché tu sei un canta storie ai tempi moderni racconti storie con con la struttura dello speciale tu riesci come dire ad approfondire argomenti che sono di portata della alla portata della cronaca quotidiana ma spesso vengono accantonati diciamo vengo a quello che è combinato in questo natale tu sei andato al carcere pagliarelli e già ci vuole un gran fegato no e e ti sei esposto in prima persona e il la frase che rimbombava da quelle letterine dei detenuti a babbo natale e questa struttura che hai creato i miei amici detenuti cioè tu hai voluto dare una mano di speranza a chi ha sbagliato e chi ma io credo che chi sbaglia come ho detto lì ai ragazzi chi sbaglia paga questo è come dire vale come regola per tutti però chi sbaglia deve avere anche la possibilità di poter essere aiutato sostenuto quindi non era la prima volta che andavo al pagliarelli con questo tipo di produzione ringrazio ancora chi mi ha permesso di poterlo fare e però io penso che natale è un momento di oltre che di grande festa è un momento anche di riflessione io ho una necessità il vero senso cristiano natale è questo io avevo proprio la necessità di confrontarmi di stare lì con loro e ho perso il conto di quanti mi hanno scritto su facebook sulla mia pagina casa minutella di gente che aveva visto il proprio figlio il proprio nipote il proprio zio alla tv che aveva letto la lettera e che mi ringraziava per avere dato loro questa opportunità ma tu hai fatto anche dei lavori sulla cronaca più come dire stringente lo speciale a bellolampo no quella montagna di spazzatura enorme e ancora le storie insomma ci dobbiamo ritornare la cosa che c'è ritornare lì perché le cose non è che si sono risolte tanto infatti insomma poi uno gioca anche un po con le parole la verità è che per quanto noi le raccontiamo ognuno con i propri modi no e la cosa drammatica è che purtroppo c'è sempre da raccontarli cioè ma non argomenti diversi gli stessi bellolampo è attuale esattamente come quando l'abbiamo girata il covid per grazia di dio ce ne stiamo liberando ma quei pronto soccorso piuttosto che quei reparti sono sempre affollati di persone che non è la cosa che ti ha indignato di più in questi ultimi anni le bare le bare accatastate le bare accatastate sono in assoluto la cosa che mi hanno fatto più per chi magari non ricordasse l'episodio è lo scandalo del cimitero delle rotoli che ha assunto una caratterizzazione internazionale ne hanno parlato tutti i giornali al mondo massimo è stato uno dei primi a raccontarlo andando lì con la telecamera a fare vedere che c'erano migliaia di bare accatastate da qui anche si espandeva liquido della decomposizione una situazione orribile ancora paremmo città dove si vive male e si muore anche peggio ho ancora al naso l'odore nausabondo delle bare dei propri cari di persone che sono ancora mentre vi parliamo in attesa di essere tumuli ma qualcosa sta succedendo l'abbiamo raccontate piano piano qualcosa succede però insomma ci proviamo e invece parliamo del bello della sicilia chi è che ti ha diciamo qui sono venuti sono arrivati in studio a don qui a tolco sicilia da te qui nello studio accanto a casa di nutella sono passati i grandi del cinema e del teatro siciliano chi ti ha commosso di più chi ti ha lasciato un segno dell'animo al di là del clamore del nome dell'importanza chi è la persona che umanamente ti ha colpito di più guarda può sembrare la classica risposta democristiana ma ci salta una risposta no devo dire con grande onestà uno in particolare no devo dire che ognuno lascia sempre qualcosa ognuno cioè questa è la classica risposta democristiana esatto devo dire che ognuno mi lascia sempre qualcosa se penso che ne so ad un'attrice io faccio il nome che magari non è un nome altisonante faccio il nome errori quattro occhi ma lo sai che stavo pensando che l'hai citato proprio lei ed è un artista che adesso nel film con favino che interpreta la mamma di francesco favino in questo film è trovata su prime video e è pazzesca e lei qualche giorno fa proprio perché è stata ospita qualche giorno fa mi ha lasciato qualcosa mi ha lasciato qualcosa il racconto di cateno de luca che ha avuto una sorta di mezzo ictus chiamiamolo così ricordiamo a tutti che cateno de luca ha scelto casa minutella per tornare in televisione io ti ringrazio dopo la malattia esatto dopo essere ritornato al parlamento regionale cateno ha fatto una promessa e l'ha mantenuto c'eravamo sentiti quando aveva avuto l'ictus insomma ci siamo ripromessi che nel momento in cui lui avrebbe deciso di tornare davanti le telecamere lo avrebbe fatto in casa minutella e quindi lo ringrazio per questa per questa scelta e però devo dire che a casa minutella si viene invitati e spesso si ritorna e con piacere beh guarda questo la dice lunga su quello che ti dicevo prima un ospite che viene sempre con tanto piacere a casa minutella e come si lascia andare e proprio ha la possibilità di aprirsi raccontare è Gianfranco Micicchè presidente Micicchè che è per adesso nel mirino sì anche lui è uno di quelli che sa che quando viene in casa minutella non trova le cosiddette trappole non trova qual è il segreto di casa minutella ma guarda la gentilezza è l'unico strumento che vorrei continuare ad utilizzare ricordo ancora in una intervista che ho condiviso con te a Walter Veltroni in cui dicevo o la gentilezza essere uno strumento ancora oggi e per quanto abbia faticato a darmi una risposta devo dire con grande onestà è lo strumento ancora vorrei continuare ad utilizzare l'essere gentili in un mondo che urla in un mondo che sbraita i talk show per antonomasia sono seguiti da persone che vedono gli altri litigare si preferisce la lista che al dialogo non è mai successo non è mai successa una lite in casa minutella rarissimamente poi è stata sedata ma non è mai successo e questo diciamo un punto di merito una medaglia che questo non lo so sono sincero ma hai intenzione come dire parliamo anche siamo come dire sta iniziando il 2023 la letterina dei buoni propositi che obiettivi ti poni per l'anno prossimo magari vuoi cambiare un po' quel format vuoi vedere un po' di cosa c'è qualcosa che non funziona c'è qualcosa che può essere migliorato allora il mio sogno nel cassetto è quello di tornare alla struttura primaria di casa minutella chiaramente per ovvi motivi legati alla pandemia avevamo dovuto immaginare un percorso che fosse figlio di quel periodo là per cui collegamenti piuttosto che avere gli ospiti studio e tutta una serie di cose era un salotto un po' più ampio io adesso se insomma se le condizioni nella prossima stagione me lo possano permettere confesso che mi piacerebbe tornare alla mia casa minutella quindi con il supporto di una scenografia che mi ricordi una stanza un appartamento ma sai che è successa una cosa divertente con un tuo ospite qualche settimana fa un esponente politico non facciamo il nome perché diciamo non c'entra nulla è stato accompagnato dalle forze dell'ordine si rivolgono a noi all'ingresso e dicono scusi ma questa è via Castanella Bandiera 4 non è un'abitazione privata guardi questa è una redazione e se ne sono andati però continuano a girare poi alla fine della tua puntata è uscito questo esponente politico fuori e la polizia è venuta a prenderselo perché cercavano casa minutella esatto esatto erano convinti cercavano il citofono, citofonare minutella ma infatti ora qua dobbiamo mettere fuori un bel citofono citofonare casa minutella potrebbe essere anche un anteprima fare due o tre minuti potrebbe essere sì, vedere chi c'è al citofono un po' come facevano tanti anni fa come facevano la gelappa, facevano il citofono sì sì, facevano il citofono e chi potrebbe essere il portiere di casa minutella così per vedere cos'è un... ah no, no, no idea un portiere, no, non ce l'ho un'idea no, ma beh, non è per degradare qualcuno no, no, no perché diciamo è un ruolo importante il portiere che seleziona, fa l'accoglienza no, ma in questo momento non ce l'avrei no, non ce l'ho un'idea no, non ce l'ho peraltro quest'anno godo della partecipazione di Alessandra Gagliotto giornalista che mi aiuta nella stesura della produzione per quanto poi tutti gli inviti partono sempre dal sottoscritto però Alessandra mi dà una grande mano ma donna molto in gamba ma sì poi donna, mamma, giornalista interagiamo un po' di più con il pubblico ci serve da caso attraverso i messaggi whatsapp attraverso le email a volte quando possiamo rispondiamo tutti singolarmente arrivano tanti però noi siamo due persone oneste ma se lo dobbiamo dirci è la verità questo sì perché non torniamo sui social? non sarebbe opportuno facciamo un appello ai nostri editori fateci tornare sui social ma che ne avrete un vantaggio sia come editori sia noi come per avere anche un metro di misura su quello che accade su come viene vissuta guarda io in questo devo dire mi assumo io la responsabilità di questa richiesta secondo me sarebbe opportuno far ritornare una versione social di Casa Minutella perché comunque tu hai inventato una tv come amano dire i nostri editori cross mediale che incrociava il pubblico della tv tradizionale con il pubblico dei new media allora ma lo diciamo senza polemica come è proposta per crescere insieme? personalmente per quanto mi riguarda appartenendo ad un gruppo e avendo un editore che fa delle scelte appunto da buon militare con quale credo di essere io insomma faccio faccio quello che mi si viene richiesto però è anche vero che i grandi generali ascoltano i soldati sul campo guarda io devo dire con grande onestà tanta gente mi chiede come mai non siamo più sui social io rispondo che è chiaramente una scelta editoriale però bisogna anche dire alla gente che i social non sono oggettivamente casa nostra cioè ricordiamolo sempre facebook di meta di Zuckerberg così come lo è instagram mentre il sito internet vrsicilia.it è nostro è del nostro gruppo del nostro editore è casa nostra magari però c'è qualcuno vuole mettere il commentino posso integrare tutte e due le cose questo devo dire con grande onestà lascio appunto a chi di dovere queste scelte però è vero è nato questo sito da poco vrsicilia.it funziona benissimo c'è tutto un elenco dei programmi potete guardare il telegiornale della giornata stessa tutti i programmi da Sicilia il programma di Emilia Ora però i social devo dire con grande onestà almeno nel mio caso per quanto Casamintella non va tutta sui social però è sempre uno strumento che utilizzo per promuovere tutti gli ospiti e poi potrebbe far crescere anche il volume di traffico dalla tv questo non è mio ripeto non è mia materia io faccio il conduttore a me arrivano le direttive da conduttore io le prendo ne prendo atto e le condivido con tutti con il gruppo e tutto il resto però insomma io sono abbastanza vintage per me la televisione rimane sempre una televisione ti ringrazio senti Massimuccio però Massimuccio mi è scappata una nota un po' gentile in privato ci si chiama così ma è inutile che ci prendiamo in giro anche se abbiamo la telecamera davanti c'è un sogno nel cassetto un ospite che fino adesso non siete riuscito a raggiungere che ti piacerebbe intervistare coccolare fargli raccontare la sua vita guarda tutti quelli che in questi 20 anni avevo immaginato di incontrare poi ci sono riusciti ci sono riusciti sì sì ma ti faccio un esempio due sono impossibili cioè due è impossibile impossibile che possa intervistare che purtroppo non ci sono più che sono Franco Franchi e Ciccio Ingrassia quelli avrei voluto incontrarli ho conosciuto la sorella al posto loro c'è la loro memoristoria Giuseppe Di Causi ma quello lo conosco molto bene però il mio sogno nel cassetto rimarrà tale proprio perché non ho più la possibilità di poterli incontrare spero più lontano possibile magari un giorno non incontrerò spero in paradiso gli dico ragazzi io vi volevo intervistare posso intervistare qua Ciccio Ciccio Franco 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 e Ciccio Ingrassia sono in assoluto però scusami questa sarà un'estate anche di grandi concerti a me viene venuto in mente ma Vasco Rossi non è il tuo bersaglio no perché fondamentalmente ripeto poi è chiaro che ci sono degli artisti che tu sai che sono assolutamente inarrivabili perché comunque fanno delle scelte legate ai loro uffici stampa tutta una serie è chiaro che Vasco non può parlare con tutti è chiaro Vasco parla con quei progetti che hanno una tiratura di carattere nazionale no però avendo fatto nel mio passato credo una quindicina di festival di Sanremo da inviato per le produzioni alle quali lavoravo e ho conosciuto tanti quegli artisti tanti di quei cioè anche per esempio un giorno speravo di lavorare con Pippo Baudo ci ho fatto tre spettacoli a Palermo l'ho condiviso il palco con lui ma come ti sento accanto a Pippo Baudo che è una montagna una una statua un'istituzione Baudo rimarrà in assoluto il più grande professionista di tutti i tempi della televisione italiana per il garbo per la capacità artistica io voglio ricordare a chi ci sta seguendo anche per l'intelligenza Pippo Baudo è quello che ha inventato come dice lui l'ho inventato io Peter Parisi Lorella Cuccarini Alessandra Martínez Al tormentone dell'estate l'ho inventato io esatto artisti dell'elevatura di Giorgia Bocelli e tanti altri sono passati dai festival di Eros Ramazzotti Zucchero Fornaciari Vasco Rossi tutti artisti sono passati dai festival di Pippo Baudo e quindi questo sogno del cassetto lo abbiamo un po' svelato cosa ci resta da dire ai nostri amici che ci guardano tanto buon anno a tutti buon 2023 a tutti io vi aspetto il lunedì il martedì il mercoledì alle 14.45 sul canale 14 perché Casa Minutella è Casa Minutella solo sul 14 e vi aspetto per nuove puntate noi saremo come dire impegnati eventualmente ad arrivare alla prima decada del mese di giugno quando poi saluteremo la stagione e poi è questo è il momento di tracciare un bilancio e capire cosa ci serve nel futuro ma ci hanno detto oggi ci hanno fatto l'oroscopo sembra che questo del 2023 sia l'anno dell'amore saremo tutti più buoni e felici mi perdonino quelli che ci credono non ho mai letto un oroscopo in vita mia un po' per fede cristiana un po' perché non posso mai credere che la vita di un uomo possa essere determinata dalla posizione di una stella lo dico con estrema franchezza però le stelle come ci diceva Jay Cronin stanno a guardare loro guardano che guardino va bene ma che possano determinare la vita di un uomo o di una donna e faccio fatica a prezzarlo e va bene noi comunque mettiamo da parte l'oroscopo affidiamoci alla fede cristiana perché tu sei un uomo di grande fede c'è il grande capo il grande capo esatto lì c'è il grande capo e quindi una preghiera affettuosa per tutti voi devo dire che l'altra cosa che spero voi possiate fare è quello di continuare a seguire anche Tocicilia però lasciatemi dire che faccio veramente un complimento di cuore al gruppo Minardo al suo amministratore delegato insomma quest'anno video ragione ha un palinzesto veramente importante importante intanto da Pinella che redige e con tutti i suoi giornalisti si dirige il telegiornale la nostra amica Pinella poi saluto Sergio Randazzo che invece è il direttore di vrsicilia.it allora salutiamoli tutti ci ricordiamo Manuel in regia e poi saluto Chiara Scucci con il suo libro in testa una rubrica importantissima la conduttrice di Buonasera Dottore i miei amici del live show Sasà Emiliano di Rosa Emiliano insomma tutti i nomi faccio fatica a ricordarvi e chiediamo scusa a chi ci siamo dimenticati ma soltanto perché però insomma quest'anno Videoregione veramente ha messo in piedi una squadra incredibile una squadra di guastatori di teppisti di giornalisti di artisti è trasversale c'è tutto becchi dalla ricetta di Carlo all'informazione all'approfondimento di Emiliano al Talk Sicilia che incontra parla e racconta anche di personaggi Casano Nutella grande approfondimento tra cultura spettacolo insomma la mia è una trasmissione come dire rotonda si passa dalla politica alla musica piuttosto che all'intrattenimento in generale che è anche essa alle piccole inchieste all'inchieste gentili che quest'anno però che tanto piccole non sono no quest'anno non le faremo però e quindi buon anno a tutti continuate a seguirci sul 14 di Videoregione insieme a me e i tanti personaggi che affollano il palinsesto quindi vi aspetto grazie Massimo grazie a te ci vediamo la prossima puntata di Casa Minutella di Talk Sicilia un saluto a tutti grazie a tutti ciao buona serata arrivederci ciao grazie a tutti grazie a tutti